La storia del gelato con la panna credo abbia fatto un po' il giro d'Italia, ma forse anche fuori dai confini nazionali. Torino, gelateria, gelataio, amanti del gelato, acquistano la coppetta o il cono gelato, viene omaggiata la panna, 50 centesimi se non sbaglio, interviene la Guardia di Finanza, multa al gelataio di 500 euro, commenti indignati un po' da tutte le parti su questo intervento e quindi un po' di clamore, un po' di contestazione, un po' di incredulità. Questa è una versione della storia, anche perché pare che di versioni ve ne siano diverse e non sappiamo francamente a quale versione prestare maggiore attenzione. Versione A, gelataio, do la coppetta con il gelato, do il cono con il gelato, omaggio la panna, 50 centesimi, non è nello scontrino, multa, qui è là, non lo sapevo, ho fatto questo, ho fatto quello, insomma perché punirmi per questo motivo, la multa al pieto credo 500 euro. Versione della Guardia di Finanza, un po' diversa, nel senso che si dice siamo intervenuti, abbiamo accertato i gelati consumati da questi avventori erano due, quindi due gelati, in realtà non c'era lo scontrino fiscale né per un gelato né per l'altro gelato, quindi non stiamo parlando di 0,50 centesimi di panno omaggiata ma di 4,50 centesimi per i due gelati venduti senza lo scontrino. Ci viene esibito uno scontrino diverso di 4 euro se non erro ma in realtà cronologicamente diverso per quelli che erano i tempi, nel senso che se lo scontrino è delle 15.30 e le persone hanno acquistato il gelato alle 16, ovviamente c'è disparità fra lo scontrino, fra il riferimento tra chi acquista e tra chi riceve uno scontrino, quindi non è questione di 0,50 centesimi, sono 4,50, non ci sono gli scontrini, c'è stata la multa, non è riuscito il gelataio a collegare il tutto e a dimostrare il tutto, pertanto intervento degli accertatori. Insomma ecco queste sono le due storie, non dobbiamo credere all'una e all'altra, sono versioni diverse, ciascuno avrà la possibilità di fare un ricorso eventualmente, il gelataio credo abbia annunciato di non avere alcuna intenzione di fare ricorso ma di essere rimasto molto male ovviamente per questa vicenda che ha dato il clamore che ha dato, ma proprio perché ricorso, costi, avvocati, tempi, giornate lavorative, non ne vale la pena per questo tipo di valore, per questo tipo di multa. L'afflato generale è un po' diverso, non stiamo a discutere se il ragionamento possa essere sostenuto per una questione legata a 0,50 centesimi o a 4,50 euro, credo conti veramente poco dal punto di vista monetario. Ovviamente tutte le critiche dicono va bene il gelataio, il cono, la panna sì, la panna no, i due coni gelati, ma tutti quelli che vendono per strada senza licenza, senza scontrini, senza pagare le tasse, perché se la prendono con e soltanto gli italiani onesti, altro tipo di critica che ha innescato questa vicenda e vengono lasciati stare tutti gli altri, che potrebbero essere multati molto pesantemente, senza il discrimine 50 centesimi, 4,50 euro e quindi tutto il resto, ed altri ancora, ma non è possibile che la Guardia di Finanza, composta da persone comunque capaci, preparate, che hanno un loro indirizzo nella ricerca di quelli che possono essere dei reati, si siano andati a perdere tra virgolette sui due coni gelati, panna o meno e non su questioni ovviamente più importanti, anche perché se vogliamo controllare un esercizio pubblico, al di là del cono gelato, controlliamo i dipendenti, controlliamo le fatture, controlliamo le bollette, facciamo un'indagine e un esame assolutamente più appropriato e altri dicono va bene se però insomma si eliminasse il denaro contante, tutto questo non si verificherebbe anche perché ogni spesa e ogni situazione sarebbe comunque tracciata. Vabbè, questa è un po' la nostra vicenda, adesso ha fatto inevitabilmente il giro d'Italia e il discorso della panna omaggiata in più è stato un po' il discorso scatenante, la riflessione e l'attenzione e il monitor su questo fatto. Lasciamo le due versioni perché non possiamo ovviamente comprendere da questi spunti chi possa aver avuto più ragione, ovviamente ben venga se la multa doveva essere data o per per la panna o per i due coni l'attenzione delle forze dell'ordine, ovviamente attenzione che vorremmo si riverberasse anche su situazioni maggiormente interessanti dal punto di vista dell'evasione fiscale. Grazie.